Aggiornamenti per niente confortanti su Medical Property Trust, almeno per ora. Se stai considerando di investire in Medical Property Trust o semplicemente sei curioso di sapere cosa sta succedendo, puoi andare anche a riguardare il mio recente aggiornamento su Medical Property Trust. Te lo lascio qui in alto, da qualche parte. Per quanto riguarda invece i pessimi aggiornamenti ederni, cominciamo. Benvenuti o bentornati, io sono Pasquale. Ritorniamo velocemente su Medical Property Trust perché ci sono degli aggiornamenti. A sorpresa, infatti, il 2 ottobre è uscito un videomessaggio dell'amministratore delegato in persona dell'azienda a riassicurazione dei propri investitori. Ci arriviamo a breve a questo ed approfondire anche il videomessaggio, visto che è un messaggio in inglese e per chi non lo parlasse vi chiarisco io le idee. Ancora peggio però è che l'azienda ha ricevuto una denuncia tramite class action. Eh già, come direbbe Vascorossi, siamo ancora qua. Pomeranz LLP ha infatti annunciato che a fine settembre è stata intentata una causa collettiva contro Medical Property Trust ed alcuni dei suoi funzionari e dirigenti, per cui non solo l'azienda di per sé ma anche alcuni dirigenti. La causa collettiva è stata depositata presso il Tribunale Distrittuale degli Stati Uniti d'America per il distretto meridionale di New York ed è a nome di azionisti o azionisti che hanno lasciato appunto l'azienda. Ma cosa è successo? Beh il 23 maggio 2023 Medical Property Trust ha emesso un comunicato stampa annunciando di aver stipulato una transazione di ricapitalizzazione con Prospect Medical Holdings, una organizzazione di servizi di gestione sanitaria. Ai sensi di questa transazione di ricapitalizzazione, in parte rilevante, Medical Property Trust avrebbe acquisito una quota di equities appunto della divisione di gestione sanitaria di Prospect, anziché un pagamento in contanti di prestiti in sospeso e affitti scaduti ma non pagati ed interessi dovuti proprio dalla Prospect nei confronti di Medical Property Trust. A causa della partecipazione di PHP alla transazione appunto questa transazione di ricapitalizzazione era soggetta a un'approvazione, quella regolamentare da parte del Dipartimento della Gestione della Salute Controllata dell'Agenzia di Servizi Umani e della Salute dello Stato della California, che abbreviamo con DMHC, o comunque quello l'abbreviazione, non è che ci sbagliamo. L'ente regolatore responsabile della supervisione dei piani di assistenza sanitaria gestiti in California. Il 20 luglio 2023 infatti la DMHC ha emesso un ordine, un decreto appunto, che ha messo in attesa la transazione di ricapitalizzazione al fine di ottenere ulteriori informazioni da parte delle due società coinvolte. Nonostante ciò, Medical Property Trust ha scelto di non divulgare il decreto di DMHC agli azionisti propri quando la società le sono noti i risultati del secondo trimestre 2023, che sono appunto usciti di recente l'8 agosto 2023, o nel suo rapporto trimestrale presentato alla SEC il 9 agosto, quindi il giorno successivo 2023. Invece Medical Property Trust ha continuato a valigiare i benefici della transazione di ricapitalizzazione affermando che l'accordo aveva aumentato il fatturato della società. La verità sulla situazione dell'approvazione di questa transazione è emersa quando il 18 agosto 2023 Il famosissimo Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che, nel titolo, parlava delle pesanti crepe, sempre più pesanti del bilancio di Medical Property Trust, paventandone un salvataggio imminente necessario. Il Wall Street Journal, che aveva ottenuto una copia del decreto di DMHC e di altri documenti appunto emessi da questo ente, in base all'atto dei record pubblici della California, ha discusso su questa decisione della DMHC di sospendere la transazione di ricapitalizzazione e dell'impatto negativo che Medical Property Trust e Prospect potrebbero subire se questo accordo venisse respinto in modo definitivo da parte dell'ente regolatore. Quello stesso giorno, Medical Property Trust ha emesso un comunicato stampa indisposta a questo articolo del Wall Street Journal in cui la società ha completamente minimizzato il decreto come una parte standard di attesa e non controversa del processo di approvazione appunto per questa ricapitalizzazione e ha cercato di giustificare la mancata divulgazione del decreto dichiarando che questa richiesta da parte dell'ente DMHC è stata considerata irrilevante per i risultati finanziari di Medical Property Trust e quindi non richiedeva a loro parere una divulgazione. La denuncia afferma infatti che durante l'intero periodo l'azienda ha reso dichiarazioni meritalmente e materialmente false e ingannevoli riguardo agli affari, alle operazioni e alle prospettive delle due società e sul loro accordo. E in particolare sono i quattro i punti che vengono citati in questa Action Class. Sulla transazione di ricapitalizzazione e sul fatto che fosse soggetta all'approvazione regolamentare ed era stata effettivamente messa in attesa dalla DMHC. Di conseguenza Medical Property Trust aveva distorto il processo regolamentare per l'approvazione della transazione di ricapitalizzazione. A causa di quanto detto prima Medical Property Trust aveva esagerato le prospettive di approvazione e i benefici della transazione di ricapitalizzazione. Infine di conseguenza ma non infine per importanza le dichiarazioni pubbliche della società riguardo alla transazione di ricapitalizzazione erano materialmente false e ingannevoli in tutti i momenti rilevanti. E quindi qui arriva il famoso video messaggio del CEO che è uscito di recente. Infatti se andate sul sito ufficiale di Medical Property Trust sull'investor relation è apparso un video del suo CEO che tende a tessere le lodi dell'azienda sul suo numero di letti a disposizione nonché sull'ampia gamma di paesi in cui opera e così via. Ovviamente nessuna di queste informazioni è falsa, anzi sono tutte verissime e comprovabili. Come dicevo nel mio video precedente non credo che Medical Property Trust possa fallire nemmeno nel breve ma neanche nel lungo forse, ma sicuramente il suo comportamento non sembra essere stato cristallino onesto nei confronti dei propri investitori. Il prezzo da 13 dollari ora si trova poco al di sotto dei 5, per cui è stata giustamente punita da parte dei propri investitori, non solo quelli storici ma anche quelli istituzionali. Quello che mi fa più strano però è che il CEO fondatore Derdizzi in questi mesi di calo dei prezzi non abbia mai incrementato a sconto la propria posizione e neanche gli altri insider lo hanno fatto. La cosa non mi convince, ma come detto anche nel video precedente, potrei sbagliarmi, anzi sicuramente lo faccio. Queste sono solo mie illazioni e pensieri circoscritti o come direbbe un noto comico, circoncisi. Bene fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi di questo nuovissimo aggiornamento su Medical Property Trust e se hai Medical Property Trust in portafoglio o in watchlist. Ti ricordo che se vuoi avere in anteprima le aziende che aggiungo alla mia watchlist personale puoi sempre iscriverti al mio Patreon al costo di una colazione al mese. All'interno di questo costo possiamo anche andare a approfondire in privato le aziende menzionate nei miei video. Ricordandoci che questi non sono né consigli a investire o non investire ma solo spunti per scopo didattico e di approfondimento in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza fammi capire il tuo credimento con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea cominciare a fare parte di questa grande famiglia e community con una maggiore presenza, la tua iscrivendoti al canale e cliccando sulla campanella delle notifiche. Io ti saluto e ci vediamo a un prossimo video. A presto! A presto!